Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Chivasso, questo è il Duomo di Santa Maria Assunta. Abbiamo un concerto di 5 campane più c'è anche un'altra campana e adesso le ascolteremo prima un tocco nelle melodie per le sante messe e poi una distesa 5 gentilmente concessa dal parroco. A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.